Un appello per la liberazione di Giulia Timoshenko è stato lanciato nell'aula del Parlamento europeo dall'Icia Ronzulli del PDL indossando una maglietta con la fotografia della donna ucraina deportata in un gulag. L'europarlamentare ha sollecitato il neopresidente dell'Assemblea di Strasburgo Martin Schutz a portare l'attenzione, ha detto Ronzulli, su un atteggiamento barbaro di tortura e carcere ai danni di una leader politica. Un appello per salvare Giulia Timoshenko è stato lanciato oggi a Strasburgo dall'eurodeputata del PDL, Licia Ronzulli, che si è presentata, la vedete, nell'aula del Parlamento europeo indossando una maglietta con la foto dell'ex premier ucraino e ha chiesto al neopresidente dell'Assemblea Schultz di andare a trovare la Timoshenko nel carcere dove sta scontando una pena a sette anni, un gesto forte contro quello che ha definito un linciaggio politico e una deportazione in stile.